La Divusione di Anfrica della Chica in Italia Senti di Danna Maestro Agliano Pasquale Maestro Esposito Piumenro Maestro Fabretti Auro Maestro Reine Riccardo Maestro Pico Domenico Sopra tenersi in cose di un cartone Dice che il vero Non si mostra come alcuna delle cose Di cui il corpo partecipa Né come qualcosa che è in qualcos'altro Ma si manifesta in se stesso Per se stesso, con se stesso Tutta una forma unica che sempre è Forma unica della stessa bellezza di vita Ma alcuni diversi Lo distribuono in cose in sé Il portatore dell'Enchino All'Enchino Tutte le letture nostre movimento Che creano un modo di bellezza Di gentilezza e della tranquillità A cambiare sul minore A fuori da una divina Ancestana che può sapere Vedezza Il respiro del cielo e della terra Nuovo vero Che è veramente Svallida Mente di vita Voi in teo chiudere il mio corpo. Grazie. Grazie. Grazie.